Anni Con la tua voce sto Oiii 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 O la banana O la banana Mi raccomando Ari 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 Sì Questa è con la tua amica Questa è con la tua amica Questa è con la tua amica Sì, non mi ricordo Ah beh, sì Questa è con la tua amica Però Un altro come vuole con la tua amica Sì, ma è mia di più Perché questo è il tuo però Guarda che è con quella amica Non mi raccomando No Ma non mi raccomando Ma non mi raccomando Ma non mi raccomando Osh Osh No, quella è della tua amica Te l'ho detto adesso No, perché io ti mozzo a po po' Perché il mio è Ah, bello Ah bello Vambi Ehi Grazie. Senti, dimmi. Prima che me ne vado, questa è la mandatissia. Gira un po' tra. Quando sceglie un fatto che gira a posto. Ha trovato il mondo. Brava. È andata, l'abbiamo fatto. Grazie. 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 Grazie.